Salve a tutti ragazzi, qua è Lassio e oggi ci troviamo con il secondo capitolo di Demon Slayer de Hinokami Chronicles Dopo lo scorso episodio dove eravamo riusciti a diventare degli ammazzademoni Siamo finalmente riusciti a diventare questi ammazzademoni che dobbiamo diciamo una sorta vendicare la nostra sorella Vogliamo farla tornare normale, mettiamolo in questo modo E oggi siamo qui con il secondo capitolo dove con i... come vedete anche dall'immagine Siamo insieme a Nezu con la sorella di Tangiro dove andremo verso la città nord-ovest Chissà cosa ci riserva questa città, vediamo un po' chi c'è e cosa dobbiamo fare Per la prima missione ufficiale da ammazzademoni, Tangiro e Nezu si dirigono verso la città nord-ovest Dove si dice che ogni notte scompaiono alcune fanciulle C'è qualche pervertito come demone secondo me, eh? Questi pervertiti di oggi È pronta la spada, mi sa 15 giorni dopo Ehm... Ehm... Non lo sta cagando di striscio Ehm... 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 Cosa hai da dirci vecchio? Ehm... 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 Nezuko Nezuko Ehm ... Ufff... Ehm... 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 Valdemort Kibutsuji Musan Che assomiglia a Michael Jackson E' un stanno nel tributo 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 Nezuko E' un stanno nel tributo E' un stanno nel tributo Un nuovo metodo. Gli ha messi tipo il comandamento, gli ha messi. Si abboccava anche da sola, e fin qui l'abbiamo capito. L'ho ucciso del demone gigante boss finale. Mi stanno perculando qua. Probabile, il perculamento comunque è tanto. Cioè, come cazzo hai fatto a battere quel coso da sola? Sono fortissimo. Minchia, comunque era veramente un boss finale quello. Possiamo visitare la città? Potrebbe essere alquanto divertente. Yes! Ok, spero che sia abbastanza... Ma perché non posso correre? Non lo capisco. Allora, vediamo un poco. Esaminiamo come sempre i frammenti di ricordo che poi, come vi ho detto, qua ci sono pure le secondarie che faremo poi in live. Come vi ho detto, questi frammenti di ricordo, una volta che le ho collezionate tutti, credo che vi farò un solo video. Dove vi metterò tutti questi frammenti, perché tanto non durano tantissimo. Ne ho visti già un paio io per capire un po' come funzionava la cosa. Perché pensavo si dovesse fetare, tipo. Invece sono solo video da vedere, quindi vi rimetterò tutti in un solo video, così risparmiamo anche tempo, eh. Tanto è una sintesi un po' della storia, diciamo. Come nel fiuto non ci sta. No, vabbè, non posso fiutare. Cane da tartufo, vai. All'attacco. Non c'è niente qua. Sembra tranquillo. Vediamo. Signore, che è successo? Eh, ora devo andare a rincurre, oh madonna-san. Ah, che è andata da sud. Ah, che è andata da sud. Ok, quindi pretende sta tizia scomparso così a caso. A posto, non manca altra modo, si riesce pure il demonio a scoperti. Ok, allora si trovano qui, questo passeggiava con la ragazza scomparsa. Dovrebbe aspettare qui un momento, c'è qualcosa che vorrei esaminare. Esaminare, ma cosa mi vorrà esaminare? L'esame della... No, 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 niente. Va bene, allora, vediamo un poco. Io intanto vado un pochettino in giro per la mappa, vedo se trovo pure qualche oggetto che posso prendere. Ok, qui c'è un odore abbastanza sgradevole, devo dire la verità, eh. C'è una palla proprio. Sento l'odore di un demone. E' trovato l'odore... Ah, proprio ho trovato l'odore. Cioè, l'ho raccolto, vabbè. Dovrei parlare con gli abitanti del posto. Se il demone ha lasciato così tante tracce, correrà sicuramente delle voci, grandi o piccole che sia. Per trovare indizi sul demone che rapisce le ragazze, comincia parlando con la gente in città. I racconti si poteranno un odore di demone nell'area. Ottieni informazioni sui tutti gli odori, se non sai dove trovare per cercare l'odore con il rettiva, bene. Posso fare una domanda? Se ha qualcosa sulle ragazze scomparse di notte o quella storia? Hai sentito? Nel magazzino dell'altra parte di questo muro è scomparse una ragazza. Cosa? Anche qui? E doveva spesso i genitori in un negozio e restava fino a tardi per pulire il magazzino. Anche quella sera si era fermata per assettare. I genitori l'hanno persa di vista per un istante ed è sparita. Che accidenti succede in questa città? E' snervante. Grazie per le informazioni. Cerca di fare attenzione. Il genitorio è venuto dall'altro lato di questo muro. Meglio controllare. Ok, ok. Abbiamo un'altra traccia di qua. Sirelona, dove sei? Vieni fuori. Mamma, quando torna a casa? Ascolta la mamma. Tua sorella non è... Scusami, c'è qualche problema? Mia figlia maggiore è sparita. Le mie bambine erano inseparabili. Quindi la piccola non ha ancora accettato la dura realtà. E neanche io. Ecco cos'è accaduto. Gioco con fuochi d'artificio con mia sorella in giardino. A un certo punto mia sorella è scomparsa. Per caso lei ha visto dove è andata? Spero che torni a casa presto. Farò la brava, lo prometto. Senza tropperà di un demone. Giuro che lo abbatterò. Mi siano più informazioni prima di poter sconfiggere questo demone. Diamo un'occhiata al giardino. Subito. Allora, come notate, le ragazze che scompaiono... A parte che qui c'è un odore qua. Hai trovato l'odore di un demone. Qui dove sta la mia ragazza. Esca a sentire una traccia del suo odore. È l'odore di un demone. Le ragazze che scompaiono sono di una determinata età. Come vedete, le bambine piccole non scompaiono. Le donne mature, in questo modo, non scompaiono. Mentre invece le ragazze, credo... Età, credo, 17, 18, 16, queste età scompaiono. Quindi il demone, vedete, c'ha pure i buoni gusti. È bravo il nostro demone. Ok, io intanto esploro ancora. Vediamo un po' cosa hanno da offrirci ancora qua. Ok, abbiamo trovato un altro odore di demone. Sentatore del demone nell'aria. Così tante vittime. Chi è stato rapito? Chi invece è stato lasciato indietro? Quel demone la pagherà. Il tramonto si avvicina. Devo sbrigarmi. Ah, devo trovare l'ultimo odore. Ok. Ok, altra persona con cui parlare. Nessuno mi crede. Perché? Mi scusi, è tutto a posto. Tanto non mi crederesti, visto che una persona è scomparsa davanti ai miei occhi. Una persona è scomparsa. Racconti, la prego. Tu mi credi, ma certo. L'altra sera era al fiume con la mia fidanzata. Guardavamo le stelle. Era splendida. Sotto al cielo, tempestate le stelle. E poi, e poi... È sprofondata ed è scomparsa. Ero troppo scomporto per reagire. Lettermente sprofondata. Dov'è finita? Sento questo dolore come se fosse anche mio. Metterò fino a questa tragedia. Lo giuro. Mi sembrano più informazioni per trovare quel demone. Dovrei esaminare intorno al fiume. Ok, anche l'ultima traccia qua di odore di demone. Erano qui a guardare le stelle. Il demone ne ha approfittato. Sento l'odore del demone nell'aria. Non potrò mai dimenticare questo odore pestilenziale. Ho trovato parecchio riguardo al demone, ma... Devo fare altre ricerche. Meglio controllare dall'altra parte del ponte. Ci buttiamo in mare? Nel fiume più che mai. Ok, questa transizione non l'ho capita, ma va bene. Sì? Sì? Sì, è vero. Potrebbe aspettare qui Oh c'è qualcosa altro che vuoi esaminare Sì mi dispiace ma non è rimasto molto tempo Darò subito un'occhiata Dobbiamo correre, corsa contro il tempo Devo andare sopra? Sì vabbè dove cavolo devo arrivare Vabbè ci vediamo tra poco Attenzione c'è un demone così a caso Ma no sense Va bene Ma un demone così no sense Dascia 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 ok Lo stiamo rompendo Mi sono parato ok Vabbè ci non sta capendo nulla sto demone Oh Madonna che range che c'ha Carichiamoci E pushiamo No parati parati Uh invece lo dascia A posto l'abbiamo distrutto Distrutto arato sto demone Non ha capito nulla abbiamo fatto perfect Grazie grazie Ok così Ma hanno pushato un demone completamente a caso Ok signori dovremmo essere arrivati Attenzione Ci bloccano la strada ancora Via 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 Pusciamo di secondo Vediamo cosa vuole fare Vabbè Oh attenzione Carichiamoci Di nuovo di secondo Dojo 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 Ottavo non l'ho preso per nulla al mondo Ok Olimpeto se Se finisce di attaccare Ok impeto subito Lo rompo lo rompo lo rompo Gli toggio in faccia Gli toggio in faccia Gli corro in faccia Ma l'ho distrutto colimpeto L'ho distrutto Arato E grado attipare perché mi ha tolto troppa vita Annaccia la miseria Va bene Quando mi tilta sta roba Quando mi tilta che non faccio grado S Fai prendere sti punti al volo a volo e andiamo avanti Quello dell'odore è praticamente su sto ponte Vediamo un po' cosa Chi è Sto demone Cosa c'è Vediamo Comunque il caricamento come vedete Ah niente Dobbiamo andare ancora avanti Il demone è più avanti Sono pronto Come vedete i caricamenti sono molto veloci del gioco Anche perché sto da pc Quindi Fossi stare la PS4 Secondo me è un quarto d'ora Vediamo un po' Siamo arrivati Mamma mia che cicchino Siamo arrivati Grande Nezuko Grande Nezuko Questo è fatto insegnante a Naruto Eh lo dico Eh Quelli si fanno solo le sedicenni Insomma Eh 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 Bopana abilista roba mi già Eh 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 Buonasera Eh si fai già mangiando buonanotte Buongiorno Attenzione siamo a 2v3 Attenzione vediamo un po' com'è il fight qua Non sto da solo Oh c'è pure Nezuko Voi non vedete perchè sta nella mia camera Però sta Nezuko sotto Ecco La barra della gialla indica la barra del supporto Prevento lp quando la barra è piena almeno per metà Puoi chiamare il tuo aliato per ricevere il suo aiuto Dopo l'utilizzo la barra di supporto si impilano Automaticamente col passare il tempo I battagli di supporto possono essere chiamati Per effettuare 3 azioni Prevento lp alleato attaccherà la persona Consumere 50% la barra del supporto Fuga all'emergenza Prevento lp nel momento in cui un attacco ti colpisce Il tuo aliato ti portare in sala Consumere del 100% Mantieni lp per darti il camion Il tuo aliato ma ricorda che le barre sono condivise tra i combattenti Consumere 50% la barra del supporto Posso usare Nezuko? What? Una battaglia un più di un avversario Puoi cambiare il bersaglio Attivo va bene Oh madonna santa Sarà un parto qua Già non ci sto capendo un cavolo Lo sto arando L'ho distrutto Non ci ha capito nulla questo No via 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 Ok uno è andato Uno è andato Via 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 Madonna zì lo harà Porco giù mi ha preso Posso usare Nezuko? No vabbè zì è finita Ma Nezuko tutta la vita Vediamo quali sono gli attacchi di Nezuko Ma è bellissima Dodgia 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 Ah ho finito il chakra E ora lo chiamerò chakra per tutta la vita Impedo Vai con l'apriamo Vai con l'apriamo Madonna zì lo sto distruggendo Ok un altro è andato Ah vieni qua Dove vuoi scappare Bello Che ho fatto? Non era la presa Questa è la presa Bella la presa E adesso facciamo un pari switch signori Torniamo con il grandissimo di potente Tangino Vabbè zì questi non ci hanno capito un cavolo Devo dire la verità non ci hanno capito nulla quelli contro Li ho arati Porco giuda Scusa 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 Si è incazzato Ah ma devo fare 1v1 ok Bella No siamo proprio Nezuko e basta Vediamo un po' come si comporta il boss C'è qualche muset diverso Ovunque Nezuko è veramente bella come muset Ok scomparso Vieni qua Dove vai merda Scappi eh Ok si è incazzato Ok Oh via 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 Doggia 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 tutto Si è incazzato il tizio Si è incazzato Via 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 Dovrebbe aver finito No è ancora in fase di rabbia Oh Cristo Mi sa che non mi conviene avvicinarmi quando è così eh Ok ha finito È il momento di distruggerlo No è partito da un'altra fase No è soltanto stancato Ok vai 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 Uuuuh Distrutto Ok si è rincazzato E mo sono cavoli miei Via 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 Ma vieni qua vieni qua seguimi seguimi Vieni vieni Oh che sono ste mosse Oh che sta mettendo tipo delle mine Più o meno credo di si Via Devo stare attento allora Cattivissimo Si ci sono queste cose che sono una sorta di mine Madonna come le sto doggiando Ma non spariscono Io non le vedo se ce ne sono altre qua Ok mi vuole Va bene Anzi ma finisci il tuo stato di rage No anzi è infinito Non finisce più Ok al momento Ma che porra Perché si allontana sempre Eh niente Eh l'ho perso di nuovo Vabbè attacchiamolo Attacchiamolo Cattiva Ti voglio cattiva Cara Pam Mamma mia che combo Uuuuh Non ci ha capito nulla Sto tempo Gli ho fatto perfect Non ci ha capito nulla Eccolo è tornato Eccolo è tornato Non ci sta parlare Non ci ha capito nulla Non ci ha capito nulla Rigenerazione infinita Ok signori, final boss credo Vediamo se è cambiato il Muset lo stesso Vabbè questo lo fa sempre Ok diciamo che dodgia un po' di più la Versailles Vediamo se riuscirà a sopravvivere a queste combo distruttive Ok Vediamo un po' come si comporta Vorrei capire se è cambiato il Muset Mi sono caccato addosso Ma è sempre lo stesso il Muset Eh vabbè questo ti pareva Mi sono andato Vai 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 Nezuko Grazie Nezuko sei un amore No Via 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 Ok non ci dovrei arrivare quando fa quella cosa Preso ok va benissimo E se ne scappa Eh mi sa che si è triggerato La regge di nuovo che odio sto Mamma mia che odio Perché non gli posso fare nulla Se mi avvicino mi shotta soltanto Quindi lo solo do già Ok ha cambiato il Muset Perché prima ne metteva uno alla volta E porco Giuda Viene pararmi qua Ok Ok ci siamo Combo con Nezuko Ma che palle Ma esplodi caro Eh se scappa E scappa Che capisci che non può fare nulla contro di noi Ok Vediamo Ah mi seguono pure Mo se vabbè Buongiorno Anzi ma questo si sta evolvendo sempre di più Eh via Beh però se fa solo questo Non è un problema Anzi Si togge abbastanza facilmente Mi paro No Nezuko Nezuko Va bene va bene Perfetto Ottavo gata Secondo E scappa Eh scappa Vado in impeto No Vai 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 Gli puscio così Di cattiveria proprio Perfetto Abbiamo triggerato Un'altra fase Ha Questo taglionetto Alla gola GG Grado S Alla bene grazie Grazie Mi ha fatto il lavaggio Raccontarci qualcosa Se vabbè Promessa molto difficile da mantenere Comunque ci proviamo Ti aiuterò caro ti aiuterò Vediamo dove arriviamo C'è ancora in rida Beh non mi ha perso più che una fidanzata D'č Oddio Sì, è vero. non mi piace, non mi piace E' un po' di più e non mi piaceva un po' di più e non mi piaceva non c'era Kazzumi è stato un po' di più che viverebbe un po' di più ma è stato un po' di più ma è stato un po' di più non è solo io non è stato un po' di più Un cattivino proprio Capitolo 2 Il Demone della Palute Completato Signori anche il secondo capitolo è finito Tanta roba anche questo capitolo Wow Quell'A mi sta ancora triggerando Ho fatto due di A No una Nacce la miseria di numero una Vabbè sempre scammata a merda Mamma che andiamo avanti in una storia Sblocchiamo i missili speciali e dobbiamo sconfiggere i demoni in giro per il mondo Per accettare in qualsiasi momento in una storia selezionando Ok Capitolo 3 scontro portale ad Asakusa E ora disponibile Ok signori noi ci fermiamo qui Abbiamo sbloccato Nezuko va benissimo Bel personaggio da usare Nezuko L'abbiamo provata prima Ok signori noi ci fermiamo qui per il secondo capitolo Vi faccio un piccolo spoiler dello screen del terzo Va bene poi chi vuol capire capisce Non si capisce un cazzo infatti Signori io spero che questo video vi sia piaciuto Naturalmente lasciate un like se la serie vi sta piacendo Fatemi sapere sotto nei commenti se lo state giocando E cosa ne pensate del gioco E noi qui ci vediamo ad un prossimo episodio